Mister Cerasi, un 3-0 pesantissimo che rende complicatissimo il ritorno adesso, squadra che è apparsa però affaticata rispetto a un progresso invece più in palla. La preoccupazione che avevamo dal periodo della sosta, non pensavo così il divario di due squadre che hanno finito quasi un mese dopo, che è il 7 e l'oro, il 15 di aprile. La nostra preoccupazione purtroppo si è verificata in gambo che abbiamo perso troppo ritmo partita in questo periodo, purtroppo si è verificato questo divario in tutti i sensi, sia la parte fisica sia la parte tecnica. Sul 2-0 avete avuto l'occasione per riaprire la partita, il gol sarebbe stato fondamentale, poi invece è arrivato questo 3-0 in contropiede, c'è stato anche un cartellino rosso, come bisognerà lavorare questa settimana per cercare di recuperare lo svantaggio? Soprattutto sarà sicuramente un lavoro psicologico perché abbiamo preso una bella mazzata, nel senso che soprattutto il terzo gol non ci voleva, dovevamo stare molto più attenti a non prenderlo perché era evitabile, evitabile così pure se andiamo a analizzare pure gli altri, però ormai è successo e dobbiamo guardare avanti soprattutto cercare con tutte le nostre forze rimetterci sia mentalmente e poi fisicamente perché quello che mi dispiace è aver spostato tutta questa gente di Giulianova e sinceramente dobbiamo veramente chiedere scusa per una prestazione che non è stata all'altezza. Scusi che ci sono state a fine gara? Sì, sì, però noi dentro di noi sappiamo che c'è un popolo che si sposta e sempre ha delle aspettative, dopo un camminato del genere ha delle aspettative, quindi abbiamo perso veramente poche partite quest'anno come l'anno scorso, quindi ci dispiace a noi per prima, siamo veramente dispiaciuti di quello che si è venuto a creare perché poi l'inizio della partita, come ha detto pure, si poteva rimettere tranquillamente con il 2-1 e poi magari gestire un attimo diversamente il ritorno, invece è così, è dura, però io sono convinto che non siamo morti.